Gli altri non lo so che cosa hanno fatto, poi visto che dentro la casa appunto mi sono dedicato a loro 24 ore per 24, fuori voglio dedicare del tempo a me stesso, con alcuni ho tagliato i rapporti semplicemente perché ho visto che mi hanno fatto la faccia lavata anche con le telecamere, figurati, dietro, qui di tutto qua, io non ho sbagliato, gli altri non lo so che cosa hanno fatto, poi visto che dentro la casa appunto mi sono dedicato a loro 24 ore per 24, fuori voglio dedicare del tempo a me stesso, con alcuni ho tagliato i rapporti semplicemente perché ho visto che mi hanno fatto la faccia lavata anche con le telecamere, figurati, dietro, qui di tutto qua, io non ho sbagliato, gli altri non lo so che cosa hanno fatto, poi visto che dentro la casa appunto mi sono dedicato a loro 24 ore per 24, fuori voglio dedicare del tempo a me stesso, con alcuni ho tagliato i rapporti semplicemente perché ho visto che mi hanno fatto la faccia lavata anche con le telecamere, figurati, dietro, qui di tutto qua, io non ho sbagliato.